eccomi ciao roberto roberto lavora in anastasis che è una cooperativa che fa software per l'educazione all'apprendimento anche per persone con difficoltà e disabilità cognitive e che lascio subito la parola come dicevo prima siamo andati un po lunghi quindi non perdiamo tempo a te parco grazie mille allora anastasis si occupa dal 1985 solo di soluzioni tecnologiche come diceva alessandra e lasciando perdere un po le etichette tante cose in realtà dipendono da un elemento chiave che è la neuro varietà no cioè parliamo di persone e di studenti in generale che per apprendere non apprendono nel solito modo quello consueto cioè utilizzando sostanzialmente il fattore testo il testuale no quindi funzionano in modo un po diverso ma siccome sappiamo bene che non esiste la casalinga di voguer quindi il mezzo pollo in realtà ognuno di noi presenta le proprie neuro varietà per alcune neuro varietà in particolare le mappe sono uno strumento estremamente utile e noi proprio facciamo strumenti molto flessibili per dare la possibilità a ciascuno di imparare di studiare e di lavorare assecondando quelli che sono i propri stili di apprendimento e i propri metodi le mappe dicevo sono appunto uno strumento agile rapido per fare tante cose fondamentalmente per schematizzare per ordinare per anche abbossare toni busan neuroscienziato le ha così definite il coltellino svissero del cervello è un po che io uso questo coltellino in anastasis mi occupo di diverse cose sulla comunicazione digitale e uso le mappe nelle mie attività per cui volevo farvi vedere le mie mappe no quindi abbiate pazienza non sono professionali ma sono mappe che per me sono utili intanto com'è che siamo finiti qui no a questo freelance camp siamo finiti per colpa di questa mappa che la mia collega letizia pierotti ha creato analizzando i gruppi linkedin che possono essere rilevanti per l'attività di anastasis l'ha fatta vedere a luca barbi che è un docente di digital update che è nostro consulente e luca ha detto cavoli però uno strumento del genere può essere veramente utile è una mappa un po' grandina adesso andiamo nel dettaglio ingrandendo le vedete che i pallini in realtà sono delle icone per ogni gruppo a parte questo nodo no descrittivo all'interno abbiamo quello che si chiama tecnicamente approfondimento cioè abbiamo messo in questo caso la descrizione del gruppo e direttamente dall'interno del gruppo noi possiamo accedere al gruppo linkedin se ci fosse necessità e se questo ci è utile con luca abbiamo lavorato anche a altre mappe ad esempio la mappa di un funnel in questo caso questa è diciamo la mappa base no che si può usare come template e dopo di che io su questa posso fare tutte le variazioni che voglio posso modificare i percorsi le ramificazioni ovviamente questo più che una mappa in realtà è un diagramma di flusso ma che si può fare perché super mappe x è uno strumento veramente flessibile un'altra attività classica e di cui non devo spiegarvi assolutamente nulla naturalmente sono le personas in questo caso volevo solo farvi vedere un po l'uso del colore e delle forme quindi come l'abbiamo utilizzato per mettere in evidenza alcuni concetti questo naturalmente è il mio approccio no nel senso che questa mappa è utile a me fatta in questa maniera qualcun altro la può gestire invece in maniera diversa sul piano grafico ma anche sul piano organizzativo altri esempi andiamo nel copywriting e qui invece vi racconto che questa mappa è nata dal prendere appunti durante un webinar quindi io ho preso appunti in questo modo quindi in modo testuale e ho fatto anche alcuni screenshot quando si parlava proprio di spazi e paragrafi ecco vi ingrandisco l'immagine quindi chiaramente qui è una compressione del testo non accettabile e qua invece l'esempio che era stato presentato nel webinar invece già funziona meglio questa mappa io poi l'ho rivista è in un secondo momento aggiungendo come vedete alcuni approfondimenti alcune note mie silvia e mi aveva chiesto suggerito dai fai una mappa sul naming ravanando nella memoria mi è venuto in mente che una mappa simile l'avevo già vista e questa mappa non l'ho fatta io l'hanno fatti ragazzi di una classe dell'istituto comprensivo 9 di bologna di una media con la docente di italiano quindi partendo da asse hanno declinato tutte le possibili possibili significati del termine asse quindi vedete voi anche come possa essere rapido e utile no fare un'operazione di questo genere quando si fa naming poi hanno inserito ovviamente anche le immagini che sono molto potenti dal punto di vista educativo quindi nel contesto del naming credo siano veramente efficaci una delle attività che mi prende maggiormente tempo è la progettazione di eventi online nonché la realizzazione e per un evento che una tavola rotonda online che si è svolta lo scorso anno ho realizzato questa mappa piuttosto che lo storyboard a forma di tabella a me è più utile questo anche perché andando nella modalità presentazione io riesco a far partire la mappa passo a passo e quindi semplicemente anticipando il punto in cui mi trovo so già che cosa devo fare dopo senza avere tutti gli elementi tutti i distrattori che ci possono essere no se ma se ho bisogno poi la posso richiamare istantaneamente e ho una visione globale immediata un'altra cosa per cui può essere molto utile è la progettazione dei corsi adesso non mettetevi a ridere quando trovate scritto google plus perché è una mappa di anni fa che ho utilizzato quindi vedete che non c'è tiktok non c'è instagram questa è un co infatti ho messo non a caso una ragnatela no questo è un modulo che ho tenuto anni fa per i giovani psicologi che si affacciavano all'attività lavorativa una cosa che volevo farvi vedere ingrandendo è una mappa che avevo fatto su ciò che è da fare ciò che da non fare nei social media quindi queste regole queste vedete che una mappa completamente testuale a qualcuno può anche non essere utile una cosa del genere può invece essere molto più utile avere una modalità completamente visiva questa ad esempio con cui mi sono dimenticato il da fare e allora vado a cercare su google immagini al volo un'immagine carina diciamo mettiamo questa anche se non è proprio esattamente quella che e poi la ingrandisco progettazione della presentazione questo è il modello che io ho utilizzato e di questo ringrazio tatiana cassaro che in una formazione specifica per l'anastanis ce l'ha insegnato proprio per questa presentazione quindi ovviamente l'ho copiato l'ho declinato un'altra cosa che volevo farvi vedere rapidamente è quest'altra mappa per via della sua estensione anche questa sono ho preso appunti ma solo a screenshot all'interno di un webinar la mappa ha una dimensione infinita non ci sono limiti naturalmente essendo completamente digitale una cosa che mi sono dimenticato importante di farvi vedere invece per questa mappa è il fatto che da questa mappa dove io ho strutturato il modulo io l'ho già creato è un documento di google la mappa può creare automaticamente un documento di google che mi riporta ovviamente la mappa mi riporta tutti i nodi di primo livello quindi io posso andare direttamente in questo punto mi riporta qui adesso non ci sono approfondimenti particolari e tutte anche le singole immagini che io posso mettere all'interno della mappa quindi da qua io posso andare per lavorare ed esplodere se devo presentare un documento a qualcuno bene classico esempio di produttività è il brainstorming in questo caso diciamo che faccio un brainstorming direttamente con me stesso quindi utilizzo lo strumento di inserimento rapido quando devo descrivere la struttura dell'azienda quindi avrà un consiglio d'amministrazione scusate gli errori ma posso a questo punto utilizzare invece un altro strumento molto interessante come vedete è il riconoscitore vocale marketing produzione magazzino vedete che la struttura che assume è quella di una raggera è molto semplice gestirla diversamente perché supermappe x ti consente di creare sia mappe mentali che mappe concettuali decidi tu come le vuoi organizzare anche mappe miste non è un problema l'ultima mappa che volevo farvi vedere è quella sull'inserimento cooperativo cioè io posso lavorare questo credo sia una funzione estremamente utile insieme ad altre persone adesso diciamo che io ho un collega virtuale in realtà mi sposto naturalmente su un altro pc e il mio collega virtuale aggiunge un nodo non solo ma posso anche a scrivere direttamente vedete nella chat questo può essere molto utile appunto lavorare in un brainstorming anche soprattutto a distanza sulla stessa mappa ultime cose rapide che volevo farvi vedere che potete caricare all'interno di un nodo direttamente un qualsiasi documento di google drive ma anche altri e in questo caso è un documento ma potevate caricare benissimo una qualsiasi presentazione e la possibilità invece di cablare direttamente un video di youtube questa è un po' la visione distopica di gaber sul metaverso è una bambina vabbè non so se la conoscete è l'uomo che perde i pezzi magari chi non la conosce può andarsela a cercare è una prospettiva distopica sul metaverso molto interessante ma sul metaverso io ho trovato anche un documento utile che ho caricato ai 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 ecco qua negli appunti e da qui io posso partire per aggiungere nodi direttamente alla mia mappa in maniera estremamente rapida ecco avete visto chi magari conosce altri software per mappe come supermappe x sia un po' diverso no dagli altri software per mappe quindi se lo volete provare molto liberamente noi vi daremo tre mesi di utilizzo gratuito non siamo qua per vendere e non siamo qua per venderlo semplicemente vogliamo capire con la vostra collaborazione se può essere effettivamente utile per voi e nel caso che cosa manca se ci può aggiungere qualche cosa quindi quello che serve sono due cose un indirizzo di gmail e utilizzare chrome perché supermappe x si appoggia una serie di strumenti google quindi andate sul link che avete nella tool bag e potete autonomamente creare subito i primi 30 giorni di utilizzo gratuito poi se siete entusiasti da oggi a lunedì mi scrivete direttamente a questo indirizzo e io vi attivo immediatamente l'estensione del periodo di prova se invece ci andate con i piedi di piombo benissimo lo valutate lo provate e poi mi scrivete dopo il 10 gennaio e io vi attivo il periodo di prova ci sono anche le app per android e ios le stiamo rifacendo in questo momento sono più limitate rispetto allo strumento web app che naturalmente va su tutti i sistemi operativi quindi in sintesi direi che più che la definizione di coltellino svissero che era quella che dava Busan sulle mappe in generale credo che supermappe x davvero possa essere una grande potente cassetta degli attrezzi grazie a tutto lo staff e grazie a tutti voi grazie Roberto a te è stato davvero molto interessante di mappe mentali noi ne avevamo anche parlato in qualche freelance camp secondo me ma confermo che sono uno strumento per ragionare meglio e per avere davanti agli occhi e sviluppare e creare i nostri pensieri ripeto quello che hai già detto nella welcome bag vi trovate il link per attivare la demo e anche per le istruzioni per estenderla da uno a tre mesi ti ringrazio e a presto grazie a tutti voi ciao ciao